Allora, tenete presente che hanno molti di loro, hanno iniziato a settembre con un'ora e mezza la settimana. Guardate, io ero un po' di anni che seguo l'applauso e quindi... ...e' anni che seguo l'applauso e allora vi vorrei dire, mettono veramente un vostro grande applauso. Allora, parte il primo numero in coreografia, è un numero che è già stato presentato l'anno scorso e ha avuto un entusiasmo e ha trascinato un po' tutti e allora abbiamo voluto portarlo come un augurio di Natale. E' una musica folkloristica, popolare ma anche trascina perché come i miei termini vi daranno un passaggio dell'antica Russia con il Kalinka. Passo del pio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.